Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo sulla divisione, guardiamo se riusciamo a passare in divisione 7 ho fatto i handi nella squadra, perciò cerchiamo subito un avversario per noi andiamo cazzo grandissimo Rüdiger, fermalo questo coglione di merda attenti, fermalo guarda non diciamo niente perchè guarda proprio il tiro più brutto della storia è questo però lui la mette se lo facevo io non entrava di sicuro dai Sturaro la piglia sempre lui sto stronzo di merda vai Sturaro, vai Rossi vai ma vaffa ma peggio oscuno in questo gioco mamma mia vai Sturaro andiamo Cervo Ansaldi andiamo Gabbiatini vai vai rigore meno male manda rigore se no se non me lo dao mi incazzavo perchè era rigore netto questo niente si va bene facciamo vedere il replay mi interessa non lo sbagliare si va bene e 1 a 1 con i gol di Rossi era esulta anzozza tipo fa 16 uova ovviamente perché come le fai sei un coglione da rigore da rigore da rigore vabbè 1 a 1 ho capito voglio vedere il replay non mi interessa andiamo batti ma guarda questo io non batte ma ferma questo qui fermo guarda ma passa guarda la difesa ma dov'è grandissimo marchetti non male sulla presa se no guarda incazza e finisce il primo tempo 1 a 1 ma bella partita combattuta fra tutte e due dai gervo che cazzo fai? no gervo non mi puoi dire guarda ma è passato questo stronzo vabbè no qui proprio difese aperte così a random no no che cazzo guardi in terra devo dire del cazzo ma se non tu sei buono a difendere ma il giocatore è volano in terra a caso io o non c'ho parole grazie va via bianini ancora via bianini di fisico ancora rossi rossi mamma mia che gol che gol che gol che gol che resta proprio cioè ha fatto con lui subito gol 2 a 2 mamma mia che gol via bianini c'è è andato via troppo bene poi rossi che ha messo l'ottantesimo via bianini via bianini via bianini rossi grandissimo vediamo è l'ottantesimo vai rossi dai rossi passa la ghiabbiadini vai ghiabbiadini grandissimo non fare una alzata grandissimo 3 a 2 mamma mia all'ottantimesimo partita che era iniziata proprio malissimo e ora si recupera mamma mia si sorpassa anche il pareggio spero di non c'è questa partita se no un altro episodio persa il primo episodio vinto vabbè mamma mia il risultato 3 a 2 guarda che bianini di fisico gli andava via troppo bene lì vai mettiamo difesa oltranza almeno non passa niente questo un batte uguale oh ce l'ha fatta a battere oddio l'intervento del portiere vai ora finisce fischia arbero fischia fischia non passare così bene fermalo ma è andato su stupidi fermatelo ma che cazzo fa ma che ti piglialla di mani oddio che culo di merda e finisce ah ragazzi per questo episodio può finire qua della divisione eeeh guardiamo se nel prossimo episodio se la facciamo a passarla la divisione mancano due partite perciò ci vecchiamo al prossimo episodio ciao ciao a tutti buona raga